La SSM, gestore dell'acquedotto comunale della città di Tolentino, segnala che nei pressi del palazzo Pari Sani Bezzi, in pieno centro storico, si è verificato un inconveniente sulla rete idrica, che potrebbe aver determinato un'immissione di acqua presumibilmente non potabile. Il sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, valutata l'opportunità di disporre il divieto di uso dell'acqua potabile nell'ambito del centro storico, in attesa di accertamenti più specifici e di verifiche della piena potabilità dell'acqua dell'acquedotto comunale, e in attesa di ulteriori accertamenti e approfondimenti e dall'esito delle analiti già richieste all'Asur e all'ARPAM di Macerata, con ordinanza ha vietato a scopo precauzionale l'utilizzo dell'acqua distribuita dall'acquedotto comunale per scopi alimentari diretti, ossia bere, cucinare e lavaggio verdure, consentendone tutti gli altri usi per lavarsi e per lavare oggetti, quali ad esempio pentole, stoviglie e piatti. Rete distribuzione parte del centro storico delimitata dalle seguenti vie, Viale dei Cappuccini, Via Filzi, Viale Miurà, Viale Battisti, Via Tambroni, Via della Pace, Via Zampeschi, Via Parisani, Via Massi, Piazza San Giovanni Bosco, Via Gramsci, ed in particolare le seguenti vie, Via San Nicola e Via Traverse, Via Oberdan e Via Traverse, Via San Catervo e Traverse, Via Valporro e Traverse, Piazza della Libertà, Piazza Mauruzzi e Traverse, Piazza Madama e Traverse, Piazza Vaccai, Via Filelfo e Traverse, Via Nazionale, Lato Sinistro, Direzione Mare, fino all'incrocio con Viale della Repubblica. Per rifornire le zone indicate è stato previsto un servizio di emergenza con l'attivazione di un punto di approvvigionamento alternativo con cisterna operativo in Piazza della Libertà. Per segnalare problemi particolari di anziani o persone sole che hanno difficoltà di rifornimento di acqua o per avere maggiori informazioni si può contattare la SSMSPA al telefono 0733 95 601 dopo le ore 18, sabato e domenica invece al numero di telefono 0733 95 6030 oppure la Polizia Municipale al numero 0733 90 12 63 oppure al cellulare 329 230 4 615, reperibilità settore lavori pubblici telefono 329 29 86 273.